La morte di Narciso Terziani, siamo con Stefano Butti che è stato uno degli interpreti di quell'Arezzo degli anni ruggenti. Non è un caso che ci sia questa maglia alle sue spalle. Butti è il prematista in fatto di presenze con la maglia Maranto. Cosa è stato Narciso per te? Ma è stato tutto. Hai detto bene, se io sono arrivato qui è perché lui mi ha voluto qui. Dopo di lui è venuto Angelillo, è iniziata la mia storia. Avevo 18 anni e da lì è partita la mia carriera e l'ho finita qua. Narciso ha rappresentato per me tutto, i campionati più belli, abbiamo vinto il campionato, abbiamo vinto la Coppa Italia. Quindi io penso che il binomio Narciso, Terziani e Angelillo fanno parte della mia storia. Anni ruggenti, era una città diversa, un calcio anche diverso, rapporti umani diversi. Sì, sì, hai detto bene. Lo stesso rapporto che avevamo noi col Presidente, anche se ti devo dire che il Terziani quando entrava negli spogliatoi con quel suo fare, quel suo modo di porsi, bastava che ti guardassi e capivi già cosa voleva dire. Il Terziani non è stato il Presidente dell'Arezzo, è stato il Presidentissimo. Lui era proprio il Presidente. aveva una grande passione. Lui non lo faceva come oggi, lui lo faceva proprio perché aveva l'amore per la squadra, l'amore per la città. Lui voleva portare l'Arezzo a alti livelli. Diciamo che c'è riuscito perché l'ha portato in Serie B, ha fatto venire ad Arezzo delle grandi squadre. e il suo sogno era quello di portare l'Arezzo in Serie A. La dote migliore di Narciso, l'umanità e soprattutto il suo essere diretto? Sì, diciamo l'umanità. L'umanità era diretto, era proprio diretto. Lui era quello che pensava, diceva. Forse era grande anche per questo.